Il nostro sommario, da allora, continua in ordine all'azienda ULS22, anestesia, all'ospedale Fracastoro si lavora in totale sicurezza, San Bonifacese e Cossato insieme per la pediatria, ecco un'attrezzatura per aiutare i più piccoli a respirare. Cellulari, attenzione all'uso può essere dannosa soprattutto per i bambini, la pleorite colpisce giovani ed anziani, un forte dolore al torace ed è il momento di rivolgersi al medico. Allergie d'inverno, arieggiare la casa e non fumare sono validi aiuti. Ictus, lo specialista risponde alle vostre domande e infine eccoci a tavola per la consueta ricetta della sana salute.